E' difficile cercare qualcosa che non ci sia piaciuto, nel senso che avendo da poco conosciuto personalmente il signor Ammani, comunque vedere il modo di esprimersi che ha nella sua arte, vederlo anche in un certo senso costruire tutto il percorso che è legato ad una sfilata, è sicuramente per noi un'esperienza nuova e interessantissima. Abbiamo iniziato questa collaborazione con Re Giorgio per quanto riguarda il nostro tour negli stadi, per cui già da tempo abbiamo iniziato a vedere questi, è stato bellissimo proprio vedere i materiali prima della costruzione dell'abito, per cui abbiamo scelto i materiali per i concerti per San Siro, per l'Olimpico, per Londra. L'abbiamo fatto quando ancora gli abiti non c'erano, oggi quindi vederli in passerella, tra l'altro poi addirittura con la nostra musica, ad un certo punto è stato veramente un viaggio onirico, una cosa da sogno. Quindi c'è stata subito una sintonia e quando poi questa sintonia la vedi passeggiare sulla passerella di moda, là succede qualcosa di indescrivibile, non so dirti ecco.